Chi è mia madre e mio fratello, se non chi fa la mia volontà che è quella del padre mio? Fate dunque sempre così. Scegliete di fare la volontà di Dio, e alla scuola di Maria imparate ad essere le mie mamme che mi danno amore e consolazione. La sapienza vi fa scegliere in ogni cosa il meglio, in ogni azione la più perfetta, secondo la volontà di Dio, e, indirizzando le stesse azioni a Dio, le rende meritorie di un premio eterno. Consigliarsi con Dio nelle grandi decisioni della vita è essere prudenti. Consigliarsi con Lui anche nelle più piccole cose è santità, perché significa agire in modo conforme alla sua volontà. Consigliare bene il proprio fratello, dopo averne chiesto il dono allo Spirito Santo, significa portare le anime al bene e rendersi molto meritevoli verso Dio. Veglia una stella su ogni creatura. È la santa volontà di Dio. Non avete che da seguirla amandola, abbandonarvisi benedicendola, compierla generosamente e con fiducia.